Ciao amici di Happy Time, siamo a Firenze al Move On con Luca Manni, siamo alla Florez Cocktail Week e Luca che cosa ci proponi? Allora per la Florez Cocktail Week come twist sul cocktail New Era ho deciso di twistare il Trinidad Sour con l'angostura John, quindi rimane un drink a base di angostura ma con dei piccoli cambiamenti. Ingredienti e quantità? Allora, due CL e mezzo di angostura, due e mezzo di jenzo, whisky irlandese, poi mettiamo del sour fresco, limone fresco e albume, Quanto? Due CL E un CL e mezzo finale di sciroppo di orzata homemade aromatizzato alle scorse di arancia. La proporzione del tuo sciroppo di orzata qual è? E senti, ho fatto per 50 grammi di mandorle, un litro d'acqua, poi filtrato e aggiunto lo zucchero e 100 grammi per ogni 165 di acqua che veniva fuori. Tecnica? Checkers rain? Checkers rain. Noi sappiamo che lui sorride e sorride con gli occhi. Per ossigenare ha fatto un po' di throwing. E poi rifacciamo un piccolo reverse dry shake. Per dare una maggiore testura al cocktail. Si. Grazie. Salute. Ciao.